salve a tutti benvenuti a un nuovo episodio di letture arcane oggi e poker vorremmo leggervi l'incipit di un romanzo di diana gabaldon la straniera la gente scompare di continuo chiedetelo a qualunque poliziotto o meglio ancora a un giornalista le scomparse sono il loro pane quotidiano ragazzine che scappano di casa bambini che sfuggono di mano i genitori e spariscono senza lasciare traccia casalinghe frustrate che avendone fin sopra i capelli prendono i soldi della spesa e fuggono in taxi fino alla stazione dei treni uomini della finanza internazionale che cambiano nome e svaniscono nel fumo di sigari di importazione molti di loro vengono ritrovati alla fine vivi o morti alle scomparse dopo tutto una spiegazione c'è di solito parte prima in verness 1945 capitolo primo un nuovo inizio non sembrava un posto da cui la gente potesse scomparire almeno a prima vista la pensione di mistress bayard era simile ad altri mille bed and breakfast nel 1945 pulita e tranquilla con la sua brava carta da parati stinta i pavimenti tirati a lucido e il boiler a gettone nel bagno mistress bayard era una donna tracagnotta e accomodante che non ebbe nulla da obiettare quando frank le ingombrò il piccolo soggiorno decorato a fiorami con le decine di libri e di scartoffie che era solito portarsi dietro nei suoi viaggi mentre uscivo incontrai mistress bayard che mi fermò afferrandomi per il braccio con la mano grassoccia santo cielo mistress randall non può mica uscire conciata così su lasci che le dia una sistemata disse aggiustandomi i capelli ecco ora va meglio sa mia cugina mi ha parlato di un nuovo tipo di permanente dice che tiene meraviglia dovrebbe provarla anche lei non ebbe il coraggio di dirle che i miei riccioli castano chiaro erano ribelli di natura e non certo causati dalla negligenza dei fabbricanti di permanenti peraltro i suoi capelli ben ordinati in rigide onde non soffrivano minimamente dello stesso problema va bene lo proverò mistress bayard menti comunque sto solo andando incontro frank giù in paese saremo di ritorno per l'ora del tè me la filai alla svelta prima che potesse trovare ulteriori difetti al mio aspetto poco disciplinato dopo quattro anni passati a lavorare come infermiera della royal army ero stufa di uniformi e razionamenti prediligendo invece i leggeri abiti di cotonina stampata totalmente inadatti alle passeggiate nella rude brughiera non che avessi intenzione di farne molte di passeggiate i miei piani erano piuttosto di poltrire fino a tardi al mattino e di passare lunghi e pigri pomeriggi a letto con frank e non certo per dormire però era duro mantenere un'atmosfera romantica con mistress bayard che continuava a passare e ripassare l'aspirapolvere fuori dalla nostra porta deve essere il tappeto più lurido di tutte le highlands scozzesi avevo osservato frank quel mattino mentre ce ne stavamo a letto ad ascoltare il feroce rugito dell'aggeggio in corridoio già lurido come i pensieri della nostra fitta camere convenio forse avremmo fatto meglio ad andarcene a brighton dopo tutto avevamo scelto le highlands come meta di vacanze prima che frank cominciasse il suo incarico di professore di storia a oxford per via del fatto che la scozia era stata un po meno danneggiata dagli orrori della guerra rispetto al resto dell'inghilterra e meno soggetta alla frenetica euforia da dopoguerra che aveva contagiato luoghi di villeggiatura più alla moda e pur senza averne parlato credo che a entrambi sembrasse un posto simbolico per ricominciare il nostro matrimonio appena sposati avevamo trascorso due giorni di luna di miele nelle highlands poco prima dello scoppio della guerra sette anni addietro un rifugio tranquillo dove dedicarci alla riscoperta reciproca pensavamo senza renderci conto che se il golf e la pesca sono gli sport più diffusi all'aria aperta quello del pettegolezzo è lo sport più praticato nei luoghi chiusi e quando piove così tanto come in scozia la gente passa un sacco di tempo al chiuso dove te ne vai chiesi a frank mentre metteva bruscamente i piedi giù dal letto non vorrei che la cara vecchietta restasse delusa rispose lui sedutosi sulla sponda del letto si mise a rimbalzare dolcemente su e giù producendo un cigolio penetrante e ritmico la sfira polvere in corridoio si arrestò all'istante dopo un minuto o due di rimbalzi frank emise un lamento sonore teatrale e crollò all'indietro con grande stridore di molle cercai di soffocare una risata nel cuscino per non interrompere il silenzio che era calato all'improvviso dietro la porta frank mi guardò accigliato dovresti gemere estasiata altro che ridere mia monia a bassa voce se no quella penserà che non ci so fare beh se ti aspetti dei gemiti estasiati allora dovresti durare un po più a lungo risposi due minuti non si meritano niente più che una risata bene poker non si è ancora stufato però i cinque minuti canini sono abbondantemente passati per cui vi salutiamo e vi auguriamo una splendida giornata grazie a tutti